calcioshoptop.com il sito che ti permette di acquistare le maglie della tua squadra del cuore a soli 29 euro e 99 ragazzi andate tutti su calcioshoptop.com ci sono le squadre della serie a della premier league la league one bundesliga liga tutto quello che volete maglie polo trovate le maglie di inter juve napoli milan lazio roma quello che cercate lo trovate su calcioshoptop.com vi ricordo che c'è l'opportunità di avere il 5 per cento di sconto per tutti gli iscritti al mio canale utilizzando il codice di sconto antonio 82 da andare a inserire direttamente nel discount code quando acquistate la maglia quindi 5 per cento di sconto sulle maglie di calcioshoptop.com per tutti gli iscritti al mio canale calcioshoptop.com grande 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 grandissimo il cecchino tedesco il cecchino tedesco imprendibile per montipo si interrompe l'imbattibilità della porta del benevento ma questo è un gioiello saranno 5 minuti di recupero scatteranno tra poco prima però la punizione salito tu e ha salito anche calvirono parte in signe pallone tagliato comodo eh niente da fare niente da fare niente da fare buonasera a tutti raga bentornati a chi sul mio canale foggio benevento 1 a 1 raga una partita che potevano vincere tutte e due le squadre veramente eh sto parlando seriamente ma non sto facendo un video di schermo al benevento però primo tempo ci sono state 4 azioni importanti da parte di tutte e due le squadre due azioni importanti del benevento una con in prota con un tiro di sinistro fuori e un'altra prima precedente con un tiro parato due azioni del foggia dove una clamorosa di chiaretti praticamente da un ricore in movimento tirato di sinistro a field di palo e poi c'è l'occasione quella del rigore di Gerbo che l'arbitro non ha fischiato in pratica recupero palla del foggia scambio dentro l'aria passaggio per Gerbo che prende la palla arriva Caldirola che prende e lo stende anche se colpisce il pallone però quello è fallo quello è fallo cioè la palla la sta controllando il giro del foggia tu entri lo prendi e lo e lo massacri quindi fallo nettissimo calcio di rigore invece l'arbitro non fischia il calcio di rigore fischia fa continuare l'azione il giocatore a terra si avvicina un giocatore del benamento al Gerbo il Gerbo lo scalcia viene espulso poi Gerbo e quindi la partita da un possibile 1 a 0 sul calcio di rigore per il foggia si continua con il foggia in 10 uomini secondo tempo azioni da una parte e dall'altra logicamente il benamento aveva l'uomo in più ci ha provato ma il foggia nonostante l'uomo in meno non è che è rimasto lì a guardare la partita ci ha provato Iemmello ci ha provato Kragl su punizione prima ha scaldato il piedino e poi Kragl che ha fatto Kragl poi allarme rosso bucchi preparati raga tanta tanta roba lo mangio una bella caramella alla faccia dei gufi che si stanno a tirare il pescale io continuo sempre ogni volta qui se ne va urlata abbassianita se questo è il benevento che abbiamo visto stasera martedì saranno delle belle martedì sera ore 18 benemento pescara terza contro quart non ci scordiamo che ci sta pure non ci scordiamo che ci sta pure Lecce-Verona bella serie B comunque parlando di oggi e di questa partita che si è appena conclusa devo dire che se ci fosse stato il rigore il vantaggio è il foggia non espulsione di Gerbo probabilmente la partita sarebbe finita in modo diverso purtroppo gli arbitri sono scarsi io ve lo continuo a dire non è una questione che vogliono favori uno gli arbitri sono scarsi non ci assecchiano perché sono scarsi mettetelo in gocce qua in gapa qua mettetelo dentro questi arbitri sono scarsi e quindi ogni partita fateci caso ci stanno polemiche ma su su azioni stupide proprio stupide non mettete lo sto cazzo di VAR sta VAR mettetela quello in serie B c'è la VAR prendi vuoi vedere almeno è falsato di meno così proprio oggi si è ingazzato Bitoli per rigore il pescar ma a me ne sembra rigore però se c'è la VAR magari mi dispiace per i tifosi del Foggia mi dispiace per Gianluks 3.0 mio amico tifoso foggiano Foggia non merita quella classifica assolutamente sfortunato molto sfortunato sta facendo una serie di pareggi senza fine considerando che oggi il Crotone ha perso oggi il Carpe ha vinto altra vittoria importantissima però Foggia doveva Foggia doveva vincere oggi purtroppo non è andata così e vabbè c'è stata sta rapina a mano armata come che vogliamo fa' vabbè raga io vi saluto fino al prossimo video vi devo vedere ancora le altre partite non vi ho commentato le altre partite perché ancora ho visto gli highlights quando vedrò tutti gli highlights vedrò tutte le altre partite ve lo posso commentare oggi stavo allo stadio io stavo a vedere Pescara quindi non ho potuto vedere altre partite però ve lo faccio il video vi prometto vi faccio il video sulle altre partite vi faccio il video sulla considerazione della serie B quindi stay tuned mi raccomando seguitemi sempre se ancora lo avete fatto iscrivetevi al mio canale qui sotto c'è il pulsante iscriviti iscrivi al mio canale attivati la campanella vi ricordo vi lascio sempre qui sotto nelle info il link del gruppo Pescara e si convinti la mia pagina Instagram Facebook vi lascio il gruppo serie B chat su Facebook gruppo siamo 8000 tifosi di tutte le squadre quindi iscrivetevi anche al gruppo serie B chat mi raccomando commentate qui sotto i commenti su questa partita secondo me falsata condividete il video ci vediamo alla prossima sempre buona serie B a tutti ciao raga